e poi era qua quando è uscita, non era lì là al bar? vabbè magari uno dice universale lo metto dritto qui così coltellata la vanta cassa ma veramente? ma che cosa? ma che cosa? va di nuovo? sì ma no ma no coltellata 90 mi mi sono messo dritto al lucchetto al centro coltellata salto e 90 cassa ma no ma non è vero sì ma che ma che ok ok allora sui crowned dai